Buongiorno carissimi amici del team Pelerano. Oggi parliamo della regolazione del terzo punto. E' molto importante per il trince Pelerano. Perciò suggeriamo quando è possibile di utilizzare il terzo punto idraulico, soprattutto quando si alterna spesso marcia avanti e retromarcia. Il terzo punto idraulico permette con l'estrema velocità e precisione di modificare l'assetto del trincia. In marcia avanti si procede sempre lunghi di terzo punto, mentre in retromarcia si usa il terzo punto corto per favorire l'imbocco del materiale. E' pur vero che si lavora, ad esempio, sempre in marcia avanti, come in un riveto, si regola bene la macchina e poi si lavora sempre nello stesso modo. Come vedete nel video, la misura ideale dell'altezza della dritta da terra potrebbe essere 3 cm circa. Ribadiamo però che il massimo della prestazione si ottiene con un terzo punto idraulico che permette una regolazione al millimetro del trincia Pelerano. Se siete arrivati fino alla fine del video, vuol dire che è stato interessante e Team Pelerano vi ringrazia e vi invito a mettere i vostri like. Vi invito ancora al prossimo video.